Fare lo zucchero è una cavolata, perché ce l'hai, lo metti nella crafting ed è fatto. No way! Spuniamo accanto a una volpe artica, vabbè, vabbè. Io lo sapevo che sarebbe finita così. Io lo sapevo. Era scontatissimo, però occhio perché potrebbe comunque succedere qualcosa di clamoroso. Non si sa mai. Regà! Regà plot twist! Plot twist 40 secondi! C'è della canna da zucchero in giro! Della canna da zucchero in mezzo al ghiaccio! No fucking way!